Come valuta la situazione dell'Inter con Mazzari che sembrerebbe in bilico? Non credo che sia in bilico perché ha appena rinnovato il contratto per un altro anno, tra l'altro un contratto oneroso, per cui la società prima di licenziare un allenatore che costa tanto probabilmente ci penserà due volte. Il secondo motivo è che comunque bisogna trovarne uno che sia più bravo di lui, che garantisca un rendimento migliore e questo nel calcio non si sa mai. Io penso che bisogna dargli il tempo, che i giocatori, mi sembra che ne abbiano cambiato una decina rispetto allo scorso anno, nella rosa chiaramente, molti sono di lingua diversa dall'italiano e quindi bisogna che comincino a capirsi. Ci vuole un leader dietro che sappia comandare la situazione e gli altri che capiscono, che lo ascoltino e poi penso che possa solo migliorare. Si fa il nome di Zenga in caso di eventuale esonero? Zenga è sicuramente un ottimo allenatore, ha fatto bene in Europa dove è stato ad allenare, è un idolo dei tifosi per tutto quello che ha fatto da giocatore per allenare un'altra cosa. Non posso non farle una domanda sulla Samp, visto che lei ha giocato anche in blu cerchiato. La sorprende questa Sampdoria di Mihailovic? Sì, mi sorprende anche se aveva rivoltato la squadra appena arrivato a Genova lo scorso anno in sostituzione degli Orossi, a posto delle basi completamente diverse da quelle a cui sono abituati i giocatori, soprattutto i giocatori italiani. Sta facendo ancora bene anche quest'anno, dopo aver fatto molto bene lo scorso anno, però siamo all'inizio, io aspetterei prima di dare un giudizio definitivo. Grazie mille.